Torna l'incubo di Ossina, quella prodotta dall'incendio della discarica di Bellolampo a fine luglio potrebbe infatti avere contaminato anche una vasta area compresa tra il territorio comunale di Giardinello e quelli confinanti di Borgetto, Montelepre e Carini. È entrata in vigore da qualche giorno l'ordinanza firmata dal sindaco di Giardinello, Giovanni Geloso, notificata ai proprietari degli allevamenti a scopo cautelativo con la quale è vietato l'utilizzo e la commercializzazione del latte munto da questi animali. Il provvedimento è la diretta conseguenza di un decreto assessorato regionale della salute che riguarda il monitoraggio di una zona posta sotto protezione per la possibile presenza di diossina superiori ai valori massimi. Le misure adottate prevedono il divieto di utilizzare il latte proveniente dagli allevamenti compresi nel quadrilatero tra Giardinello, Carini, Montelepre e Borgetto. È vietato inoltre spostare gli animali allevati per la produzione di alimenti destinati al consumo umano, il pascolo di bovini, ovini e caprini, l'utilizzo e la vendita di formaggi contaminati o esposti al rischio di inquinamento, la raccolta e il consumo di funghi e lumache. È vietato infine consumare o cedere ad altri carne e uova prodotti dopo il 29 luglio, prodotti da allevamenti a conduzione familiare. Per sei anni ha insegnato senza avere i titoli, ora dovrà restituire gli stipendi percepiti. La sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei Conti ha condannato Patrizia Locascio di Partinico a risarcire al Ministero della Pubblica Istruzione più di 80.000 euro, oltre agli interessi maturati nel frattempo. L'inchiesta era nata dopo che il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Palermo aveva segnalato che la Locascio negli anni scolastici tra il 2003-2004 e il 2008-2009 aveva ottenuto il conferimento di incarichi a tempo determinato come insegnante di sostegno nelle scuole materne, mediante la presentazione di false dichiarazioni scritte in ordine al possesso del titolo di studio, indispensabile per l'espletamento di tale tipo di attività. La donna aveva esibito la copia di un diploma di specializzazione polivalente per le attività di sostegno che apparentemente risultava esserle stato rilasciato dall'Università degli Studi di Macerata nel 2001, ma l'Ateneo ha smentito che fosse mai stata iscritta a uno dei suoi corsi. La Locascio si è difesa affermando, senza però addurre alcun non concreto elemento di prova, di essere stata vittima di un non raggiro perpetrato da alcune persone, di cui non ha saputo fornire le generalità, che si sarebbero presentate come gestori di una scuola di specializzazione per insegnanti di sostegno, non meglio identificata, che ella avrebbe frequentato a pagamento e da cui, dopo aver superato l'esame finale, avrebbe ricevuto il diploma intestato all'Università di Macerata, poi rivelatosi falso. In ogni caso, l'effettivo svolgimento dell'attività didattica, pur senza il possesso del titolo di specializzazione prescritto dalla legge, non avrebbe reso in debita la percezione delle relative retribuzioni. Di parere diverso i magistrati contabili di primo e secondo grado, la retribuzione percepita va restituita con gli interessi, perché i contratti sono nulli, scrivono Patrizia Locascio, agito a fine di trarre in errore i competenti organi dell'amministrazione scolastica, ed ottenere così il conferimento di incarichi di insegnamento che altrimenti non avrebbero potuto conseguire, essendo priva del prescritto titolo di specializzazione. E' l'aumento dell'Imo, l'occasione per l'ultimo scontro tra il presidente del Consiglio Comunale di Cinisi, Nino Vitale, e il sindaco Salvatore Palazzolo. Durante l'ultima seduta del Consiglio Comunale, i nove esponenti della maggioranza hanno detto sì all'aumento dal 7,6 al 10,6 per mille sulle abitazioni. Il provvedimento però non colpisce tutti, ma solo le cosiddette seconde case. Con questa manovra è la seconda volta che il Comune ritocca in avanti le imposte. Ad agosto, infatti, l'IRPEF era lievitata dallo 0,4 allo 0,8%. Anche in quel caso non erano mancate le polemiche tra i sostenitori dell'amministrazione e la minoranza, che negli ultimi tempi si è rafforzata con l'arrivo di quattro consiglieri, un tempo vicino al primo cittadino. Ancora una volta, dice Vitale, l'amministrazione mette le mani nelle tasche dei cittadini pur di fare cassa. Se avessero fatto in tempo utile una programmazione economica, si sarebbe potuto pensare a tagliare alcune indennità o qualche servizio inutile. Non però il sindaco Palazzolo. Fino a questo momento, ribatte, non abbiamo assegnato alcuna consulenza né sprecato risorse. È facile fare demagogia quando si tratta di aumentare le tasse, ma non avevamo altra scelta. Di recente, spiega la Regione, ci ha comunicato un ulteriore taglio di contributi e in bilancio ci è venuto a mancare 1.600.000 euro. Se non avessimo operato questa scelta con senso di responsabilità, il Comune avrebbe rischiato il dissesto finanziario. Terrasini. Il Consiglio Comunale boccia l'aumento del Limo e il Comune rischia il dissesto finanziario. Il dibattito in aula consigliare è stato molto animato. Sentiamo il parere del sindaco Massimo Cucinella e del capogruppo di opposizione Terrasinus Norino Ventimiglia. Allora, sindaco di Terrasini, il Consiglio Comunale ieri sera ha bocciato l'aumento del Limo. Da dove pensate poter reperire questi soldi per il bilancio comunale? Si rischia il dissesto finanziario. Qualcuno ha ritenuto ieri di fare una cortesia ai cittadini non aumentando l'alicota del Limo. Probabilmente il rischio maggiore da cui andiamo in conto è quello del dissesto finanziario con la conseguenza che per 5 anni tutte le alicote, tutte le tasse vanno a schizzare al massimo. Per cui la panora proposta agli uffici era finalizzata a contenere un rischio che si fa sempre più imminente. Noi chiaramente cercheremo in tutti i modi di evitarlo perché riteniamo che è nostro dovere nei confronti dei cittadini tentare l'impossibile per evitare il dissesto finanziario. Non è una questione di apparenza o di voler dimostrare di essere bravi. Il problema è che bisogna avere la capacità per chi riveste incarichi istituzionali anche di assumersi il compito e l'onore di scelte non popolari, non populiste o comunque sgradite anche alla gente ma nell'interesse della gente che è quello sicuramente di vedersi non aumentate le tasse in maniera sconsiderata e incondizionata. In un contesto di spending review il cittadino avrebbe un vantaggio dal non aumento dell'Immu ma cosa potrebbe piombare nelle sue tasche? Qualcuno ha sostenuto ieri che è facile fare la spending review, basta eliminare, tagliare e ridurre le spese per gli amministratori. Non è questo e c'è la disponibilità da parte nostra a farlo, non sono questi i problemi dell'equilibrio del bilancio. Qua si rischia di non poter assicurare nessun altro servizio e quindi andare a tagliare anche quei servizi pochi che attualmente stiamo dando perché da un anno tagliamo e conteniamo e cerchiamo di ridurre qualsiasi tipo di spesa. Oggi siamo nelle condizioni di dover ulteriormente fare questo. Noi non riteniamo che questa bocciatura dell'aumento dell'Immu possa creare scolibri al bilancio comunale anche perché ci siamo impegnati, ieri sera durante i lavori d'aula, a trovare insieme all'amministrazione e insieme al Consiglio comunale all'interno del bilancio quando ci verrà trasmesso, perché ancora oggi il Consiglio comunale non ha avuto trasmesso il bilancio di previsione, di trovare all'interno del bilancio quelle voci o quelle ulteriori spese. Oggi si parla tanto di spending review, di contenimento della spesa e credo che in questo momento sia più importante contenere la spesa ed evitare la spesa superflua che aumentare le tasse cittadini e quindi siamo sicuri, siamo convinti che studiando attentamente il bilancio, cosa che non è stata possibile perché vogliamo ricordare che noi siamo stati chiamati a votare questo aumento dell'Immu 24 ore prima della convocazione, quindi senza essere messi nelle condizioni di valutare attentamente la proposta e soprattutto di esaminare il bilancio e quindi trovare all'interno del bilancio quelle voci o quelle spese che noi riteniamo superflua e che avrebbero consentito ieri sera stessa al Consiglio comunale di esprimersi in maniera diversa con una proposta alternativa. Non ci siamo sentiti quest'anno di aumentare le tasse cittadini e terrasini, qualcuno dice ma scusate ma negli altri comuni hanno provveduto tutti i comuni ad aumentare le aliquote, questo non mi sembra un motivo per aumentarla anche a terrasini. Terrasini quest'anno si è distinta, per l'anno 2012 per non aver aumentato né il servizio di raccolta della tassa dell'immondizia, non l'abbiamo aumentata, nonostante ci fosse anche il libro stato proposto di aumentarlo del 30%, ne abbiamo aumentato l'Immu all'1,6% così come hanno fatto tanti altri comuni. Non mi pare che il servizio di raccolta sia migliore o peggiore degli altri comuni che hanno provveduto ad aumentarlo e non ci sembra che non aver aumentato l'Immu possa creare dei problemi seri al bilancio comunale. L'ex comandante della stazione dei carabinieri di Partinico, Ludovico Schillaci, mentre erano in corso le indagini sull'omicidio di Roberta Rina, la studentessa uccisa nel 2005, non avrebbe rilevato alcun segreto d'ufficio. La notizia è pubblicata dal giornale di Sicilia di oggi. La prima sezione della Corte d'Appello ha infatti stabilito che il fatto non sussiste ed ha assolto dall'accusa il maresciallo difeso dall'avvocato Luca Inserillo. È stata così ribaltata la sentenza di primo grado con la quale Schillaci era stato condannato a quattro mesi, pena sospesa dalla terza sezione del Tribunale. Secondo l'accusa, mentre le indagini sulla morte di Roberta Rina erano ancora alle prime battute a gennaio del 2006, il militare avrebbe rivelato a Rosalia Rina, sorella della vittima, di essere intercettata. La donna, peraltro in quella fase, era tra le sospettate per il delitto. La studentessa venne ritrovata col cranio fracassato il 18 ottobre nella sua camera e solo nell'aprile successivo venne individuato il vero assassino, Emilio Zanini. E per puro caso tentò di violentare e strangolare un'altra donna che riuscì a metterlo in fuga e a conservare una ciocca dei suoi capelli fondamentale per l'esame del DNA che poi lo ha incastrato. Secondo quanto ha sostenuto la difesa di Schillaci in appello, il fatto che Rosalia Rina fosse intercettata era di dominio pubblico, essendo una delle principali sospettate. Fu addirittura mandato in tv, ha sottolineato l'avvocato in Serillo, un servizio per smentire l'arresto. Inoltre intercettazioni del dicembre 2005, dunque prima della contestazione a carico di Schillaci, dimostrerebbero che Rosalia Rina fosse stata informata da altri dei controlli. Era stata lei stessa a denunciare la presunta rivelazione di segreto d'ufficio alla Procura, ma nel dibattimento di primo grado aveva sostenuto di non ricordare bene come andarono le cose. I cittadini di Partinico protestano per i disagi di una delle due strade di accesso al cimitero, cosparsa di buche e di pozzanchere, lamentano l'assenza dell'intervento preventivo dell'amministrazione comunale e dell'assessore ai servizi cimiteriali. Questa mattina al cimitero ma ci vuole qualche barchetta per entrare da questa parte? Ma ci vogliono avere un po' di buonsenso e di vergognarsi quando qualche amministratore attraversa questa stradella perché è assurdo e inconcepibile. Io comprendo le difficoltà finanziarie, comprendo le difficoltà che ci sono all'interno dell'amministrazione, però non comprendo come, non si può sapere anche il buonsenso, l'iniziativa con un camion, andare dalle ditte che vendono queste strade e metterlo qua per salvare un po' la faccia, non dico per... ma è una vergogna, stamattina di prima mattina qua non si poteva transitare dall'acqua, dalla pozzangra, io mi vergogno ancora una volta. Signora cosa vuole dire? Cosa voglio dire? È evidente cosa voglio dire. Tutti gli anni a camminare nei fanchi, ma che discorso, ma questa è la libertà, eh? Confermata dalla Cassazione la condanna all'ergastolo per il boss Michelangelo La Barbera per l'omicidio dell'euro parlamentare democristiano Salvo Limo, ucciso a Palermo il 12 marzo del 92. La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso con il quale il capo mafioso chiedeva che gli fosse applicato per effetto estensivo l'annullamento della condanna ottenuto nel 2001 e nel 2003 in Cassazione da altri boss come Giuseppe Graviano e Pietro Aglieri, che non parteciparono alle riunioni della cupola che avevano deliberato l'uccisione del politico o che si trovavano in prigione. Con la sentenza depositata ieri sera i supremi giudici hanno respinto la richiesta della difesa di La Barbera, rilevando che la prova della sua partecipazione a tali riunioni esecutive del suo assenso all'esecuzione dell'omicidio Lima è stata ritenuta con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10 maggio 2002, divenuta irrevocabile. Il verdetto ricorda che alle riunioni La Barbera partecipava in sostituzione di Salvatore Buscemi, che era detenuto ed era il capo del mandamento di passo di Rigano. Alcune delle riunioni poi si erano tenute presso un'abitazione dello stesso La Barbera. La sua partecipazione, il suo assenso, infine, erano stati confermati dal Salvatore Cancemi, Giovanni Brusca e Giovanni Battista Ferrante. E' stata dunque convalidata l'ordinanza con la quale la Corte di Assise di Appello di Palermo il 3 ottobre 2011 aveva negato l'effetto estensivo. Botte risposta a distanza tra l'Arcivescovo di Palermo, Cardinale Paolo Romeo, e il neopresidente della Regione, Rosario Crocetta. Sono passate poche ore dal verdetto delle urne che lo ha incoronato Presidente della Regione Siciliana e già Rosario Crocetta deve fare i conti con il pressing delle forze che contano. In primo piano l'assenza di una maggioranza a Lars, nessuna è imboscata in aula, ma un vero e proprio avvertimento lanciato da chi vive proprio a pochi metri da quel palazzo dei Normanni, dove Crocetta sarà costretto a lunghe trattative per consentire una vita serena ai provvedimenti del suo governo. Il Cardinale Paolo Romeo, intervistato a Radio Vaticana, è entrato nel dibattito, avviatosi già lunedì sera. Ora noi qui in Sicilia saremmo governati da chi è andato al governo col 10% dell'elettorato, ha ricordato l'Arcivescovo di Palermo. Ora in un momento di crisi così grave credo che sia impensabile poter governare col 10%, perché si ha bisogno di una partecipazione ampia. Secondo Romeo oggi sempre più quando c'è da spartire tutti sono disponibili, ma quando c'è da fare dei sacrifici tutti si chiamano fuori. L'alto prelato interviene anche sul dibattito innescato dall'assenza di una maggioranza per il nuovo esecutivo regionale, è necessaria una partecipazione ampia. Romeo non è tenero con Crocetta neanche quando questi ricorda il suo impegno antimafia, facendone una discriminante rispetto al passato di Palazzo d'Orlean. In queste ore ho sentito sbandierare che ora c'è un'antimafia presidente della regione, ma il presidente della regione non è il procuratore antimafia, quello lo deve fare il procuratore antimafia, mentre il presidente della regione se vuole combattere la mafia, dice Romeo, deve far funzionare gli uffici della regione, perché se non funzionano c'è sempre chi corrompendo li farà funzionare come vuole lui. E l'assenzionismo registratosi domenica l'elemento che più preoccupa Romeo. C'è un degrado della vita civica e della vita sociale, sempre più pronunciato, ha sottolineato. C'è una scollatura tra paese politico e paese reale molto preoccupante. L'assenzionismo che si è registrato qui, spiega il Cardinale, è un fenomeno altamente preoccupante, perché non dobbiamo dimenticare che i nostri padri, per darci una democrazia, per dare la voce al popolo, hanno sacrificato la propria vita. Noi quindi non possiamo chiuderci nelle nostre case e guardare dalla finestra ciò che accade nel nostro territorio. Trovo dunco un tradimento dei sacrifici dei nostri padri, ha continuato il voler pensare, io ho un giocattolo che è la democrazia, se voglio giocarci ci gioco, altrimenti no. Questo è un fenomeno gravissimo, perché siamo dei rinunciatari che ci chiudiamo nelle nostre visioni e lasciamo che a decidere siano altri, che a prendere le redini della società siano altri. Due giorni di mobilitazione regionale con manifestazioni, martedì prossimo davanti alle nuove prefetture della Sicilia, mercoledì 7 davanti agli uffici provinciali del lavoro, sono stati indetti dalla CISL Sicilia, che rivendica il finanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2012. Non se ne ha più notizia, denunciano Maurizio Bernave e Giorgio Tessitore, segretario generale e componente della segreteria regionale CISL. Il sindacato si dice preoccupato per gli ultimi infruttuosi incontri tra Regione Siciliana e Ministero del Lavoro, perché la quota di finanziamento disponibile per il 2012 si sta riducendo rapidamente per effetto delle assegnazioni che il Ministero continua a fare alle altre regioni. Il 16 ottobre, in occasione dell'ultimo incontro che abbiamo avuto col dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione, Anna Rosa Corsello, abbiamo appreso, si legge in una nota, della disponibilità del Ministero a erogare 50 milioni di euro, che per le nostre insistenze dovrebbero essere elevati a 65 milioni. In quell'occasione, ricorda la CISL, abbiamo chiesto che fossero sbloccati i pagamenti dei decreti già inviati all'Impes e di far ripartire le procedure presso gli uffici provinciali del lavoro, seguendo rigorosamente l'ordine di presentazione delle domande per evitare disparità di trattamento e nel rispetto dei più elementari principi del diritto e delle decisioni assunte in passato dalla Commissione regionale per l'impiego. Ora la situazione è estremamente allarmante, protestano Bernava e Tessitore, non solo perché, stando all'assessorato regionale, sulla base di un monitoraggio al 13 settembre sarebbero necessari altri 99 milioni di euro. Siamo già alla fine dell'anno e, caso unico, non c'è alcuna certezza di copertura delle stanze del 2012. Il sindacato segnala pertanto la miriade di lavoratori di piccole e medie imprese in crisi, costretti in condizioni di estremo disagio e, segnatamente, la vicenda assolutamente insostenibile degli operatori della formazione professionale che non ricevono stipendio da almeno un anno. La festa dei morti in Sicilia è una ricorrenza molto sentita, risalente al X secolo. Viene celebrata il 2 di novembre per commemorare i defundi. Si narra che, anticamente, nella notte tra il primo e il 2 di novembre, i defundi visitassero i cari ancora in vita, portando ai bambini dei doni. Oggi questi doni vengono acquistati dai genitori e dai parenti nelle tradizionali fiere che si svolgono in molte parti dell'isola. Qui vi si trovano bancarelle di giocattoli oggetti vari da donare ai bambini che vengono poi nascosti in casa e trovati da quest'ultimo al mattino presto con una sorta di caccia al tesoro. Oltre a giocattoli di ogni sorta esiste l'usanza di regalare scarpe nuove, talvolta piene di dolcetti, come i particolari biscotti tipici di questa festa, le ossa di morto, o i pupatelli, i taralli, i nucatoli, i tetù e i marroni, i primi velati di zucchero, i secondi di polvere di cacao. Frutta secca e cioccolatina accompagnano un cannistro, un gesto ricolmo di primizia e di stagione. Frutta secca, altri dolciumi, come la frutta di martorana. Ma il vero protagonista di questa tradizione centenaria e senza dubbio è più amato dai bambini, resta sempre il pupo di zucchero o pupa a cena. La tradizione lo vuole dipinto con i colori del carretto e con le sembianze di un paladino, ma la moda è buona di ricreare con lo zucchero i personaggi dei cartoni animati più amati dai piccoli. E così sugli scaffali dei negozi di dolciumi, accanto alla statuetta di Giovanna d'Arco, appare un buffo blu, mentre vicino a San Michele Arcangelo si scorge l'uomo ragno. Le dolci creazioni sono comunque delle piccole opere d'arte, la cui produzione artigianale però si sta lentamente estinguendo. Un altro segnale dell'inesorabile avanzare di altre tradizioni, forse più tecnologiche, ma sicuramente più povere di significato. I bambini invece vogliono le forme dei cartoni animati e si lasciano convondere dalla festa di Halloween, che nulla ha a che vedere con la nostra, sicuramente più densa di significato. Può una tradizione così dolce sparire soprattutto dalle tavole siciliane, in favore di zucche vuote, pipistrelli e scheletri che si vanno diffondendo per tentare di uccidere le nostre sane tradizioni? La giornata prosegue con la visita ai cimiteri, dove ripostano i nostri cari defunti. Dopo avere festeggiato con un'edizione corposa ed importante le sue nozze d'argento, il trofeo Costa Gaia si prepara all'edizione numero 26. Rispetto alle ultime edizioni il gran galà di presentazione dovrebbe essere anticipato di alcuni giorni. In programma la presenza dei vertici nazionali, della Federcalcio, di un cabarettista della TV e di altri personaggi del giornalismo sportivo e del mondo del calcio professionistico. Il comitato organizzatore sta per chiudere l'accordo con un'associazione per contribuire alla ricerca scientifica. Per quanto riguarda l'aspetto agonistico del Costa Gaia, ancora una volta saranno i nastri di partenza le big del calcio italiano, Juventus ed Inter, oltre che al Torino, plurivittorioso del torneo. Già confermati anche Varese, Padova, Palermo e Carpi. In itinere la partecipazione di ben tre squadre provenienti dalla Spagna e due dalla Tunisia. Intanto continua ad essere notevole il coinvolgimento dei comuni che metteranno i loro campi a disposizione del Costa Gaia. Una ventina circa disseminati in ben tre province, Palermo, Trapani e Agrigento. L'evento organizzato dalla Delcam anche quest'anno punterà sulla promozione dei prodotti tipici isolani. Fra le tante iniziative infatti anche la cena sociale alla quale dirigenti ed allenatori di tutta la società mangeranno e berranno esclusivamente secondo i sapori e le ricette di Sicilia.